ciao a tutti e benvenuti a questo gameplay è rimasto che ho cacciato una ratia e mi ha fermato qui quindi proseguo buonasera su una rita e guarda ragazzi devo cacciare due rati a rose saluto vediamo un po' subito una mano la mano un po' 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 Aiuto Cazzo Ah posso solo Cazzo Vai tirati su Cazzo da tre piattre La porta pettana dai mo Non mi aiuto Un'esamore ho già Cazzo Che figata non è già morta Che strenza che sei Un'esamore Alla ora Un'esamore Un'esamore Ok, forse trafaccia, scalcarla, grazie a lei, mamma mia, aiuto. Eh, male, sti cazzi, allora, e, sì, dove si sta andando? Ok, la rimarrate rosa? Eh, che cazzo! Ah, ah, ah! Ah, sei tu! Qua l'ho scaccato tutta, ok, perfetto, ok, perfetto, pa, 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 pa eh oh 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 yeah eh 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 sei in togli hai 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 ayah hai 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 terwena ke oke hai 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 e allora è qua però prima si scavo l'arma porca puttana che cazzo è che ha fatto sto verso qua sti cazzi c'è un filet che è incazzato nero e non è il mio ahahah ah 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 io però di questa razza non vedo due attacchi sinceramente ah 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 happy stop beh che culo di merda sono fatta davanti a quel culo super potenza oh yeah no questo è il suo gatto che è incazzato come una misce figatti nata accalmata Kaleid capputtana e bestialito fantastico ragazzi veramente no vado a piccolare la pietra e messia completa c'è la tua piccolare la ottimo ragazzi veramente allora frammento frammento sacca esplosiva ossa mostruosa arpione rubino frammento frammento misteri corteccia corteccia very good ora puoi scrivere il materiale al winborio la terra rosa da recuperare la nostra spazio di da oggi ecco 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 c'è poco da fa e poco da di ah che peccato ha lasciato la sala e vabbè beh ragazzi però prima di salutarvi voglio dire cosa ha dato in me questa qua ecco ehi tutto bene standard di nuova cazzo wow non male mai e ti stimo per questa ti hai ripreso a questo dono come riconoscimento per il tuo distancabile lavoro buono avu ok vedi ragazzi dopo cosa è successo questo è il blog cp e ci vediamo al prossimo ciao a tutti